Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi alcuni aggiornamenti del canale, come diventerà il canale, cosa ci sarà di nuovo, due o tre notizie nuove, ma intanto mi scuso per l'audio, qua sotto hanno aperto un cantiere, quindi trapano, trapano in continuazione, hanno aperto penso una clinica psichiatrica qua davanti, ci sono bambini che piangono, dolle che strillano, uomini che, non lo so, che scappano dalle donne che urlano, ma, insomma, c'è un casino, l'audio è quello che è, mi dispiace, sarà uno degli ultimi video, forse l'ultimo video che porterò ad agosto, o il penultimo video che porterò ad agosto, ma molto probabilmente l'ultimo video che vedrete qua, da queste postazioni precarie, e l'ultimo video in cui sarò in ferie, ok? Quindi poi ricomincerò la solita programmazione, un video ogni due giorni, come al solito, che mi sembra un buon ritmo da poter mantenere nel tempo. 12-15 video al mese, giusti, precisi, che a voi piacciono. Bene, partiamo qui agli aggiornamenti, il primo è che qua sotto, non ci giro intorno, qua sotto c'è un link in descrizione per effettuare donazioni tramite Paypal. Ho deciso di mettere questo link, ognuno può decidere di donare un euro, due euro, un caffè, una pastarella col caffè o qualsiasi cosa, una cifra che voi potete permettervi per supportare il mio lavoro. Ho deciso di far così per semplicemente non diventare un mercenario. Non ho utilizzato questo termine perché vedo molti influencer, più grandi di me, essere mercenari. Nel senso, ci sono persone estremamente oneste, che sponsorizzano solo progetti che io reputo validi, solo piattaforme che io reputo valide, solo prodotti che io reputo validi. Sono tanti altri influencer, soprattutto nell'ambito cripto, dove c'è tanta fuffa, che propongono, sponsorizzano piattaforme, progetti, completamente fuffa, semplicemente per incassare. Canali grandi anche, non canali di nicchia, canali grandi con 50, 60, 100.000 iscritti, 120.000 iscritti che propongono fuffa pura. Io non voglio essere una persona che propone fuffa pura, ma nel contempo dedico ore e ore e ore del mio tempo a montare video, a creare contenuti, a condividere il mio sapere, e fino adesso l'ho fatto sempre, diciamo, in modo gratuito. O quasi, insomma. I guadagni da YouTube che ho sono praticamente nulli. Poche decine di euro al mese. Ho deciso quindi di mettere questo link, che durerà 30 giorni, che poi però verranno protrati nel tempo, finché non troverò aziende reali, serie, che possano dare valore a quella che è la mia community. Ho contattato diverse aziende, purtroppo quelle più grandi, quelle un po' più serie, mi hanno detto che non sono abbastanza grande e che non riesco a... non riuscirei a dare a queste aziende abbastanza visibilità. Ed è giusto così. Non nego che comunque siamo poco meno di 4.000 ormai, anzi, ci siamo ingranditi parecchio, ma siamo poco meno di 4.000 e ci sta che delle aziende serie, un po' più grandi, non guardino al mio canale. Mentre le meme coin, piccoli progetti, mi propongono anche diversi soldi, devo dire la verità. E sono golosi, 5-600 euro per due video su TikTok e un video su YouTube, proponendo piattaforme. Facile. 6 ore del mio tempo per 600 euro, 100 euro l'ora. Io non voglio diventare un fuffa guru e ci tengo molto di più alla mia faccia, alla mia credibilità e al mio culo, onestamente, rispetto ai 600 euro. E questo è il primo aggiornamento. Quindi, se avete voglia, tempo, soldi e possibilità, qua sotto c'è il link in descrizione. È completamente libero, quindi nessuno vi giudicherà neanche per il minimo, per un caffè. E anzi, vi ringrazio fin da subito. Magari, durante i prossimi video, dedicherò un piccolo spezzone, un 30 secondi del video, a ricordare a tutti il link, ma abbiate pazienza, è il massimo che posso fare. Questi soldi verranno destinati, ovviamente, per comprare attrezzatura migliore, per migliorare la qualità dei miei video, che in questo momento, con le varie difficoltà che ci sono, insomma, non riesco a permettermi. Quindi, semplicemente questo. Altro aggiornamento. Da metà settembre, fine settembre, vediamo in che periodo farlo partire, farò partire un progetto di... difficile chiamarle, chiamate informative, coaching informativo, direi che sia il termine migliore. Quindi una sorta di... una sorta di lezioni, one to one, per imparare a gestire un portafoglio che sia di investimenti cripto o che sia di investimenti in generale. Perché vedo molte persone che non sono in grado di gestire i propri soldi, non sono in grado di... di avvicinarsi in modo corretto a un mondo rischioso, come sono quelli delle cripto... come quello delle criptovalute, e spesso si sbaglia tanto. Secondo me avere un... un aiuto personale, one to one, io pensavo di farlo a gruppi due, di due persone, altrimenti, dico... sono onesto al 100%, se questo progetto dovesse partire con un certo numero di persone, non ce la farei poi a creare contenuti. Per adesso mi rendo conto, siamo veramente pochi, non so quanti di voi aderiranno a questo progetto, ma secondo me è molto valido. Ci stiamo avvicinando al Burran e avere una persona, non dico esperta, ma che ci sta dietro, diciamo, a questo settore, da 2019, praticamente, quindi da 4 anni, 3 anni e mezzo, 4 anni, sicuramente può aiutare molte persone per affrontare la prossima Burran nel miglior modo possibile. Continueranno le serie su portafogli, quindi andrò comunque ad analizzare i portafogli, gratuitamente a chi mi manderà il loro portafoglio su Telegram, con tutte le descrizioni, riprenderò questo da settembre. Non sarà e non vuole essere intesa come una consulenza finanziaria, non sono un consulente finanziario, quindi non potrò fare analisi di portafoglio, dettagliate, entrando nello specifico, e dare consigli finanziari propri nel portafoglio. Possiamo rimanere in un discorso più generale e andare magari a trovare il focus in quello che manca, all'utilizzo di un exchange, alle basi di un trading, ripeto, le basi, non sono un esperto di trading e non faccio questo di mestiere, ma comunque posso condividere la mia esperienza non su un video YouTube, ma one to one. Per quanto riguarda prezzi e cose varie, saranno poi tutte disponibili sul mio canale Telegram e anche di questo lascio il link in descrizione, che è super gratuito, e anzi, siamo più di 800 persone ormai e vi ringrazio tantissimo il supporto. Come detto, questo secondo me potrebbe essere un servizio utile, soprattutto perché ci stiamo avvicinando alla Bullrun. Siamo un anno, un anno e mezzo forse, due anni massimo, secondo me, distanti da una futura Bullrun, con tante cose, tanti nodi che stanno venendo al pettine e tante nuove notizie che vale la pena tenersi sotto controllo, secondo me. Tante nuove criptovalute, tanti nuovi progetti che stanno nascendo, tanti nuovi aggiornamenti su progetti che già abbiamo analizzato che stanno nascendo. Secondo me avere un quadro generale importante, una distribuzione buona del proprio portafoglio è molto molto importante, secondo me. Questi sono gli aggiornamenti che porterò nel breve. Adesso ho una vacanza lavorativa in Germania che durerà qualche giorno, non tanto, pochi giorni. cercherò di creare contenuti anche in quello. Come sapete, con la mia ragazza ho anche un canale dedicato ai viaggi, quindi sarà, diciamo, non proprio una vacanza di piacere, ma una vacanza lavorativa, in cui cercherò di creare anche dei contenuti per questo canale. Io spero che questo aggiornamento vi sia piaciuto, era una discussione, non ci sono tagli, era giusto per chiacchierare e portare aggiornamenti su quello che sarà il mio canale le prossime settimane, i prossimi mesi in poi. Io vi ringrazio, come al solito lo ascolto, e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.